Startup e imprese pesaresi della cultura, del turismo e dell'engagement hanno risposto presente ad una nuova chiamata della Casa delle Tecnologie Emergenti, la cosiddetta CTS Square che vede il Comune di Pesaro capofila di un progetto finanziato da 11 milioni di euro dal Ministero del Made in Italy e delle Imprese. Nella sala del Consiglio Comunale si è tenuta infatti oggi la Call for Ideas and Solution, un momento di congiunzione e trasferimento di idee fra i progetti di ricerca delle Università di Urbino e della Politecnica delle Marche, le tecnologie proposte dai partner della CTE e le esigenze di crescita innovative delle imprese. Oggi stiamo ricercando soluzioni, start-up, PMI, che vogliono raccontare la propria idea di soluzione per risolvere dei problemi, come dicevi bene tu, sui tre verticoli della Casa che sono cultura, turismo e engagement. Questo perché, partendo dai bisogni che abbiamo raccolto circa due mesi fa, vogliamo andare a trovare queste soluzioni tecnologiche a impatto che ci possano aiutare. Abbiamo notato come c'è l'interessamento da parte anche delle imprese di partecipare e di capire dove stiamo andando e dove andremo a portare avanti il progetto. Oggi sono stati presentati molti casi d'uso che possono essere introdotti all'interno della nostra città e questo mi fa piacere anche perché la sperimentazione è già partita, sta andando avanti e nei prossimi mesi vedrete la trasformazione della città. Qui si parla non solo di turismo, cultura e partecipazione e engagement, ma si parla anche di sicurezza. Perché se avete notato hanno fatto vedere le telecamere, lo studio dei flussi collegati al turismo, la possibilità di far vedere alle persone che vogliono arrivare a Pesaro, a vedere virtualmente in 3D la realtà di Pesaro. Quindi questo sicuramente aiuta e incentiva ancora di più il turista a essere interessato a venire verso la nostra città. Quindi un progetto, come ho sempre detto dall'inizio, sinergico, che abbiamo lavorato in squadra con tutta la Giunta, anche perché tutti gli assessori fanno parte della fine della Casa delle Tecnologie e stanno lavorando in base alle proprie deleghe e introducono tutto ciò che è la tecnologia digitale. Quindi un grande lavoro sinergico tra transizione ecologica, transizione digitale e soprattutto un aiuto concreto alle imprese del nostro territorio.